Vi siete mai chiesti perché i prodotti della Parkside costano un 30% in meno rispetto alla concorrenza costano meno della concorrenza con un rapporto più a prezzo buono semplicemente perché sono prodotti assemblati in Cina questo Lidl non lo scrive da nessuna parte infatti se leggete c'è scritto Germany e stop niente della Cina non c'è scritto niente ma facendo una veloce ricerca su internet ma anche leggendo si capisce una cosa anche le istruzioni a fine sta scritto questo gridsy tools g e altro e anche questo sotto questi sono i veri produttori almeno i progettisti di questo trap perché Lidl con Parkside i prodotti Parkside vengono progettati da queste due grandi aziende tedesche infatti dietro c'è anche il brevetto e il la dichiarazione della conformità e addirittura su questo trapano c'è anche lo schema block della costruzione quindi il progetto è tedesco e l'assemblaggio è asiatico però almeno scrivere design in Germany assemblato in Cina se penso sia più corretto per i consumatori sapere che è roba cinese perché comunque c'è anche assemblato in Cina perché molti sono convinti anche io in realtà fino a poco tempo fa che la Parkside sia in offerta è impossibile costa poco a parte la mano dopo anche perché i prodotti sono buoni ma non è che siano tutta questa eccellenza c'è di meglio comunque è una in Cina